Prima di iniziare ragazzi vi ricordo che in descrizione trovate il link per acquistare le mie magliette Mi raccomando appena le indosserete fatemi una foto e taggatemi su Instagram in modo che io possa seguirvi E adesso vi lascio il video, buona visione Hola a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo episodio dello Star Pryson Oggi proveremo a fare il primo prestigio Detto questo vi invito come sempre a lasciare un pollicione in su Cerchiamo di superare i 2843 like Iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti Attenendo la campanellina per non perdervi nessun altro mio video E detto questo possiamo iniziare subito Ok ragazzi eccoci qui Durante il fine settimana ho farmato tantissimo Ma proprio tanto 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 Tant'è che abbiamo ben 35 miliardi Raga 35 miliardi Ho fatto anche un paio di rank up E lanci e salita prestigio 2 Bene Comunque mi hanno anche dato un assegno Che lo attiviamo subito a 150 milioni Se non sbaglio si O un miliardo e mezzo Non l'ho capito Comunque il nostro scopo di oggi è quello di raggiungere Perché ho scritto tank È quello di raggiungere il rank final Noi siamo al god Per fare il rank up ci costa 20 miliardi Per fare il rank up successivo ce ne costa 30 Questo cosa vuol dire che se faccio ora slash rank up In questo modo Sbam Raga siamo al rank epic E manca il final Abbiamo 17 miliardi In questo episodio Dobbiamo cercare di ottenere I 13 miliardi mancanti E per farlo Cosa ho fatto? Mi sono messo a vendere oggetti all'asta Come tutti questi gettoni Che ho farmato Raga mi sono messo a farmare Come tanti di voi O comunque tanti giocatori All'interno del server AFK A farmare note block Per poi trasformarli appunto in gettoni Nel frattempo abbiamo anche noi Comunque un explosive crate da aprire Quindi facciamo il tasto destro qua E l'apriamo Se abbiamo fortuna E spero di sì Vorrei tantissimo Ho dei gettoni L'ho chiamati Quanti gettoni? 20 gettoni Beh ci può stare Ne abbiamo ben 14 mila Il nostro piccone raga Se facciamo slash gettoni Può ancora salire con excavation Perché ha excavation 4 Il massimo è il 5 Ma ci costa 15 mila 15 mila gettoni ragazzi Ce li ho Tranquillamente Sono questi qui E però Vorrei fare una cosa Se andiamo a fare noi ragazzi Slash AH E poi sell E poi facciamo tipo Un 100 milioni Tipo così sono 100 milioni Esatto Sbam Ho messo all'asta Appunto uno stack Di gettoni per 100 milioni E qui ragazzi Ne ho tanti io Cioè io metto a fare ora ragazzi Così E incomincio a venderli Proprio a manetta Ne metto veramente tantissimi Così i vari player Li vanno a comprare Ed è quello che ho fatto Durante il corso Di questo fine settimana Ho venduto l'inferno Ho messo tanti gettoni All'asta Ma proprio tanti 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 Basta fare così Cioè raga Guardate la produttività Proprio tac 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 Quattro Tac 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 Cioè raga Sono diventato una macchinetta Di vendita Non puoi vendere altro Sì Siamo arrivati al limite ragazzi Di vendita purtroppo Al mio slash AH Questi qui sono tutti i gettoni Che ho messo io adesso In vendita Se scrivo e diamo Raga Ho messo in vendita Diversi Gettoni Comprateli Facina sempre che sorride Perché va Sempre Siamo comunque a rank epic Siamo rankati insieme Questi gettoni Li facciamo così E adesso che siamo nel nostro lotto Raga È il trivato del tempo Slash Gettoni E vai di Escavation 5 E ragazzi Eccolo qua Andiamo subito a provarlo Al rank Epic Visto che è il nostro rank E ho sbagliato Perché ho scritto rank epic Lo scrivo invece Warp Epic Ok non c'è completamente nessuno Mi sa Un maronna Oddio raga Uno vale 15.000 Quindi Praticamente Il warp dark Warp dark Da qualcosina in più Ma proprio Poco poco Si da 750 in più Quindi Mettiamoci qua Raga A farmare A schifo Ma proprio a schifo Cioè guardate Ci riempiamo instant Raga L'inventario Probabilmente Questa parte Ve l'ho velocizzata E ragazzi In circa Un minutino Credo Ho fatto Praticamente Un miliardo Con questo piccone Quindi alla fine Proprio Se proprio vogliamo Esagerarla Ragazzi Se noi andiamo al Warp Epic Eccoci qua Siamo a 19 Billioni E 140 Milioni Riempiamoci un attimo L'inventario Ok E abbiamo ottenuto Praticamente Un 30 Milioni In pratica Quindi se adesso Andiamo a vendere Questo qui Dovremmo arrivare a 19 Billioni E 2 Perfetto Quindi ragazzi Calcolate che Nell'arco Forse di Neanche 5 Secondi Si può andare a fare Con questo piccone In questo Warp 30 Milioni Quindi si Praticamente Raga In un minuto Andiamo a fare Qualcosa come 300 Milioni Quindi in 3 minuti Si fa un miliardo In questo lotto Naturalmente Cioè ecco Calcolate che L'ho riempito subito Ragazzi L'inventario Sono passi 3 secondi Forse Neanche Cioè guardate Cioè è proprio Iper veloce Cioè guardate Cioè quando siamo riempiti Quindi si raga Non ci vuole nulla A salire ormai di livello Ma ho notato una cosa Che alcuni Già hanno comprato Gli oggetti in vendita miei Li hanno già comprati tutti Raga Oggetti che stai vendendo Li hanno comprati Tutti A questo punto Vorrei fare un'altra cosa Mi metto ancora Un altro pochettino A farmare dei gettoni Li rimetto a vendere Soprattutto Ho anche un'altra idea Che vi farò vedere A breve E ragazzi Ho fatto anche Gli altri gettoni Questo note block Che avanza To È tuo Te lo regalo Allora Chi ci fa questo qui Qua da me Comunque ragazzi Ho fatto altri gettoni Li ho ritrasformati Pure in monetine E li metto di nuovo A rivendere Tac Raga Veramente easy Li metto sempre Allo stesso prezzo Visto che se li sono mangiati Se li sono comprati subito Quindi vuol dire Che vanno bene E manca ragazzi L'ultimo stack No non posso venderlo Vabbè Mi prendiamo di nuovo noi Se andiamo adesso a fare Slash Ah Ragazzi Andiamo qua Oggetti qui E come vedete Stiamo vendendo Ben 10 stack Che qui Dovrebbe valere Un altro bilione Ok ho scritto Che sto vendendo Altri gettoni Nel frattempo Volevo fare una pazzia Vendere un oggetto Per 5 bilioni Ragazzi 5 bilioni Volevo prendere Un blocco di smeraldo Rinominarlo E metterlo All'asta Ma per rinominarlo Abbiamo bisogno Allo stranvil Ma abbiamo anche bisogno Dell'esperienza A questo punto Direi di fare una cosa Ah ma aspetta Non lo vedete Che già stanno comprando I miei oggetti Ragazzi guardate Cioè vanno a ruba I gettoni Infatti sono già A 20 bilioni Ci mancano 10 bilioni Ragazzi Per salire all'ultimo rank E fare quindi il primo Prestigio Quindi mi è venuta Un'idea in mente Se andiamo a fare Slash shop Possiamo comprare Dei blocchi Come ad esempio La stone Ne compriamo Uno stack Ok Che facciamo La andiamo A piazzare Tutta a giro Tipo tutta messa Così La spacchiamo Instant A parte che ci fa Farmare ragazzi Anche soldi Come cosa Che è molto interessante Sta roba qui Ma comunque Possiamo craftare Delle fornaci Craftando ragazzi Delle fornaci Ecco Ne mettiamo tipo 5 qua così Perfetto Prendiamo ora ragazzi Decoal Mettiamo qui ancora Dell'altra stone E praticamente Mettiamo a cucinare Della stone Facendo così Otteniamo noi anche Esperienza Mettiamo qua Un blocco No un blocco Mi sa che è esagerato Forse Facciamo così Perfetto Mettiamo uno qua Di stone E mettiamo Quando lo so Un poco Di cobblestone Tac Un altro E così via ragazzi In questo modo Dovremmo fare subito In maniera molto easy Un livello di esperienza Per rinominare Il nostro oggetto Un'altra cosa Che potete provare È quella di mettere A cucinare ragazzi Della sabbia A dire la verità Forse con la sabbia Possiamo anche Ottenere forse Qualche consiglio In più di esperienza Può essere Chi lo sa Perché naturalmente Con la stone Raga Ne otteniamo veramente Poca Cioè Già Come vedete Abbiamo fatto Due tacchette Adesso E ragazzi L'abbiamo fatto Un livello Di conseguenza Adesso Tac Lo possiamo rinominare E vai Allora Chiamiamolo subito Blocco Di Emerald In questo modo Sbam Raga E lo mettiamo A vendere Ovviamente A tantissimo Facciamo Slash Ah Raga Credo di averlo messo In vendita Per un miliardo Purtroppo Vediamo Vediamo un attimo Chi lo ottiene Ok Dovebbe essere appunto Un miliardo Scrive adesso Raga Ho messo In vendita Il blocco Di Tra viricolette Emerald Vediamo un pochettino Chi se lo va ad acquistare Nel frattempo Direi che ci sarà Un mega taglio Fin quando O non acquisteranno Il blocco O comunque Fin quando Non arriverò Ragazzi Alla fine Dei soldi No raga L'ha comprato Già Ma L'hanno già comprato Neanche il tempo Di dirlo Ma se faccio Allora così Ragazzi Se lo comprano Lo stesso Cioè Se faccio Così Proprio Easy Raga L'hanno già comprato Raga un altro Ma costano miliardi Moli di nomino In che mi faccio I sordi Ecco Una cosa Che mi sono Dimenticato Ma il generatore Di enderman Come funziona Cioè Lo piazzo così Forse ho fatto Una cavolata Raga Guardate il lato positivo Abbiamo ben tre livelli Quindi posso Rinominare Blocco Uno stack Di blocco Di emerald Sbam Raga Mettiamo a vendere ancora E nero ragazzi Fatto questo Direi che È giunto il momento Di farmare tantissimo E ci vediamo Appena avrò Tutti i soldi Necessari Oddio raga Oddio Mi hanno regalato Un membro Della mia fazione Mi ha dato Sei bilioni Mentre stavo farmando Raga guardate Oddio guardate Altri sei No vabbè Ci sono rimasto così Siamo a 37 Eh ragazzi Rank up Andiamo al final Abbiamo pure Una chiave E abbiamo Sette bilioni Ragazzi Ora adesso Questa cassa Cosa troviamo Abbiamo trovato Oh 10.000 Wow E ragazzi Andiamo con I prestigisti Siamo VIP Facciamo anche VIP Prestige Facciamo così E costa Quanto Costa altri 15 bilioni No Non ci credo E di tutto quanto costa Ah e naturalmente Secondo posso farlo Soltanto da quando Eh vabbè Ma mi Mi leggono Normalmente Perché mi hanno Prenda scritto Ti do io I 15 bilioni E a questo punto Niente Ci ritocca Andare di nuovo Al Andando al warp final Eccoci qui E vediamo poi Ti adesso Comunque Un blocco Di questo qui Quando ci da Ci da quanto Warp dark Raga No raga Mi stanno riempiendo Di soldi No mi hanno dato 15 bilioni Veramente Ma mi hanno dato Del td No vabbè Raga Mi stanno riempiendo Che cosa bella Essere uno youtuber A questo punto Ragazzi Cioè Wow Veramente Spawn Facciamo Il comando Eccoci qua Clicchiamo E riclicchiamo E sono Al prestigio Uno ragazzi E la chat Sto esplendendo Di gg Lull Ute E tante altre belle cose Raga Oddio Dove sono finito Ma ho un assegno Prestigio uno Applica Uuuu Raga L'auto sell Si fa In questo modo E sbam Adesso abbiamo anche L'auto sell E ragazzi Praticamente Riniziamo ora Dal primo warp E prendete ragazzi C'è l'auto sell In automatico Quando si riempie L'inventario Sbam Gli va a vendere Come potete ben vedere Fichissimo Cioè raga Noi possiamo fare Il rank up Easy ora Comunque Perché siamo riniziati Di nuovo Comunque Sono veramente Contentissimo Abbiamo un'altra Che La apriamo Subito E mentre ragazzi Apro Questa key Vi dico una piccola cosa Un pochettino Brutta Ma bella Per un piccolo periodo Ragazzi Questa serie Non uscirà sul canale Verrà un attimo Messa in pausa Ma perché Perché i founder Del server Mi hanno detto Che a breve Faranno un mega Aggiornamento E quindi Vogliono Che continua la serie Quando ci sarà Il nuovo Aggiornamento Presumo Da come ho capito Che si riprenderà Tutto Praticamente Nell'arco Di se no Due settimane Quindi non vi preoccupate La serie Mancherà Se no Per questo Piccolo periodo Per poi riprendere Di nuovo Con un nuovo Aggiornamento Con tante novità Comunque ragazzi Siamo riusciti Finalmente a salire A primo prestigio E direi che come piccolo Obiettivo Ci sta tantissimo E pertanto E questo episodio Può anche Finire qui Qui ragazzi Questo video Sullo star prize Non finisce qui Spero vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare Un pollicione in su Un commento Qua sotto E se ancora Non vi siete iscritti Al canale Vi invito A iscrivervi Volendo Per iscrivervi Al canale Basta che cliccate Nell'altra Che sta Qui cendo Lo schermo E se già L'avete fatto Potete cliccare A sinistra A destra Per vedere Un altro Mio video No ragazzi Detto questo Vi saluto E noi ci vediamo Oggi pomeriggio alle 15.00 Con un nuovo video Della Lucky Osh Insieme a Metano Ciao a tutti